Vinicio Marchioni, in Vino Veritas, Teatro Traiano, come nasce l'idea di questo spettacolo che oggi vediamo in scena? Nasce per l'amore per il vino, nasce perché sono cresciuto in una famiglia in cui il vino si faceva e nasce perché dall'università, gli studi, gli spettacoli che ho fatto, la tradizione della grande letteratura dall'Iliade, l'Odissea in poi, insomma, fino ai giorni nostri, ai grandi poeti, i grandi autori hanno tutti trattato in qualche maniera il vino fa parte dell'esperienza dell'umanità, della crescita dell'umanità, insomma, nei suoi aspetti positivi, nei suoi aspetti negativi, pensiamo alle opere liriche, pensiamo ai quadri, pensiamo ai pittori, pensiamo a tutto quello che è, come dire, quello che l'essere umano ha prodotto a livello artistico e quindi questo spettacolo è un breve excursus, diciamo, dell'alcol, del vino all'interno della grande letteratura, della grande opera lirica, insomma. Una sorta di omaggio, quindi possiamo dire? Sì, un omaggio al vino, ma attraverso il vino ovviamente è un omaggio alla vita, perché il vino è il brindisi, il vino è l'accoglienza, il vino è l'ospitalità, il vino è la condivisione, il vino è lo stare insieme. In un periodo in cui invece siamo costretti a stare lontani ed isolati, mi sembrava un buon modo per ricordarci che invece siamo degli animali sociali. Ecco, tu hai fatto cinema, hai fatto televisione, anche teatro, però chiaramente poi a maggior ragione considerando che, coraggi mi se sbaglio, sei l'unico attore in scena, com'è recitare in un momento del genere, soprattutto possiamo dirlo in uno spettacolo a porte chiuse, quindi immagino che l'interazione col pubblico, cosa fondante della messa in scena teatrale, viene meno. C'è un grande senso di solitudine, insomma, ed è la solitudine, penso, condivisa da tutti gli attori e da tutte le attrici, da tutti i registi, i tecnici, i direttori luci, i scenografi, tutti i lavoratori del teatro, dello spettacolo dal vivo, insomma, sembra che ovviamente l'Italia è piena di problemi in questo momento, però si parla di tutti questi problemi, ma non si parla mai del nostro comparto, insomma, nessuno si occupa di quando, se e come riapriranno i teatri, quando persone che non lavorano da marzo potranno forse ricominciare a fare il proprio mestiere, sembra proprio che non ci ne freghi niente a nessuno, insomma, quindi fare questo spettacolo oggi, insomma, in un teatro meraviglioso come questo, è strano, però è anche, come dire, un piccolo modo per resistere, per dire che il teatro tanto non morirà mai. Assolutamente, ecco, con una dose di ottimismo per concludere, sperando sempre una riapertura quanto prima possibile dei teatri, di tutto, insomma, il comparto tecnico organizzativo che si muove attorno a questa realtà, c'è qualche progetto in cantiere per Vinicio Marchioni? Di progetti ce ne stanno moltissimi, ringraziando il cielo, insomma, è stata interrotta la tournée dei soliti ignoti, con cui siamo stati proprio qui al Teatro Traiano l'inverno scorso, e quindi si dovrebbe riprendere quello spettacolo lì. Poi abbiamo debuttato quest'estate ad agosto, a luglio, anzi, al Napoli Teatro Festival, con la nostra versione del Caligola di Camus, con Milena Mancini in scena insieme a me. C'è in Vino Veritas, che è un reading fondamentalmente, appunto, che presentiamo oggi qui a voi, e poi di progetti per il cinema, ce ne stanno moltissimi, ringraziando il cielo.